Arriviamo secondo me in una buona condizione, direi ottima, ancora non siamo in grado di stare al 100%, però abbiamo avuto qualche acciacco ma niente di che, quindi i ragazzi sono allenati bene, come ho detto sempre nelle varie interviste, stanno bene sia fisicamente che mentalmente, diciamo che domani oltre ad essere in derby, comunque per noi è una partita che ci deve portare poi all'inizio del campionato, quindi ho visto i ragazzi molto concentrati, pronti per domani fare queste partite. Abbiamo avuto un piccolo problema con Tiscione, che ha avuto una leggera distorsione, quindi abbiamo deciso insieme allo staff di non rischiarlo e poi ho tutti gli effettivi pronti per domani. I ragazzi li ho visti a Banzas Sereni anche perché noi se focalizziamo il campionato nostro e penso anche gli avversari su questa partita, che sia la Coppa o poi che sia in campionato, facciamo un grande errore, quindi noi sicuramente sappiamo che è una partita che qui a Misilmeri tengono tanto, però il nostro obiettivo è lavorare sempre, non stiamo lavorando perché incorgiamo il Misilmeri, abbiamo lavorato e stiamo lavorando bene perché sappiamo quali obiettivi vogliamo raggiungere e appunto stiamo lavorando principalmente su questo. Mi aspetto quello, come ho detto alla squadra, ancora non possiamo essere una squadra al 100%, abbiamo fatto dei passi in avanti, la prova di San Cataldo ci ha dato qualche certezza, gli allenamenti ci danno ulteriori certezze, però è normale, domani c'è il fattore caldo, è la prima partita quindi dobbiamo essere bravi anche nelle difficoltà a compattarci, ma io sono convinto che gli elementi che abbiamo in squadra faremo una grande partita. Le sessioni sono positive, è un mese che stiamo lavorando, con il Misilmeri siamo una squadra nuova, quindi non è mai facile, come sappiamo quando si aggiungono molti giocatori in una squadra bisogna lavorare bene, quindi sicuramente un derby sarà molto sentito, come mi ricordo anche lo scorso anno con San Cataldo e Senissa, sono sempre partite particolari, quindi la società, la città comunque vuole delle risposte, stiamo lavorando bene, come dice anche il mister ci abbiamo un po' di acciacchi, ma comunque la rosa è ampia, perciò andiamo lì a fare la partita sicuramente. Ho avuto un piccolo acciacco in preparazione, però poi mi sono ripreso, adesso sicuramente dopo il vaccino tutti quanti noi stiamo un po' soffrendo il caldo, ma vedo che le gambe iniziano a lavorare bene. Beh, come tutti quanti ci aspettiamo di essere comunque protagonisti nel campionato e poi sicuramente hai il campo a parlare, ma comunque sono venuto qui a fare bene sicuramente, perciò credo tutti quanti noi, quelli che stiamo qua, siano qui per un obiettivo e vediamo partita dopo partita di raggiungerlo sicuramente. Allora, mi sono trovato bene e adesso stiamo lavorando con diversi metodi, qualcuno ci ha lavorato, qualcuno meno, ma invece mi trovo molto bene. Sicuramente alcuni li conoscevo come Pippo, Angelo, alcuni giocatori, Elio, e li conoscevo bene, mi trovo bene. E anche davanti vedo che ci muovevo bene, soprattutto Paolo Mondino mi ha fatto un'ottima impressione.